Ciao a tutti, mi chiedo scusa con chi vedendo il titolo di questo video sperava di vedere sfilate di modelle o di ragazze di Miss Russia, niente di tutto questo. Vi parlo invece sì di donne, ma più che altro di propaganda. Vi insegno un piccolo trucco per andare oltre la propaganda che a volte ci viene propinata per quanto riguarda il Medio Oriente e l'Islam guardando le donne. Mi spiego, quando si parla di rivoluzioni democratiche mi riferisco a Libia, Siria, un po' a tutte quelle che sono avvenute nei paesi arabi lungo il Mediterraneo. Ci vengono spesso ci viene presentata la narrazione, quella che piace a noi occidentali, di queste rivoluzioni a cui magari non sappiamo se credere o meno e parallelamente a questo ci sono sempre video e foto di dimostrazioni di manifestanti in questi paesi. Possono essere dimostrazioni di protesta contro un regime oppressivo oppure manifestazioni di gioia quando viene celebrata la liberazione di qualche città o eccetera. Perché sono importanti le donne? Perché voi in queste foto l'esercizio che vi chiedo di fare è di cercare le donne, trovarle e vedere come sono vestite. Probabilmente, ve lo dico subito, in molti casi voi vi fermerete già al primo punto perché le donne non ci sono. In tantissimi di questi video e foto nelle manifestazioni ci sono soltanto uomini ci sono soltanto uomini, se ci sono donne diciamo sono bambine oppure molto anziane. E sempre, beh le bambine no, ma le anziane sempre con il velo. E questo è una cartina al tornasole della libertà che questi ribelli pro occidentali vogliono, anzi riescono a portare nei loro paesi. Poi vi chiedo di confrontare queste immagini con quelle raccolte da altri giornalisti, soprattutto russi, ma non solo, che hanno riportato da zone controllate da questi regimi. adesso io mi riferisco soprattutto alla Siria che è quello che ho seguito un po' di più in questi mesi. Per esempio c'è una giornalista della CNN, di cui ora non ricordo il nome, che è andata sia nelle zone controllate dal governo di Assad, sia nelle zone liberate dei ribelli, controllate dai ribelli. E' interessantissimo vedere come cambia il suo abbigliamento in queste due zone, perché nelle zone controllate da Assad lei è libera di girare senza veli, senza veli intendo senza veli in testa, è vestita, mentre nelle zone controllate dai ribelli è tutta coperta. Un altro esempio c'è una giornalista russa, Maria Finoshina, che ha fatto alcuni video a Damasco, ad Aleppo, oppure nelle zone controllate dal governo, in cui lei gira da sola per la città, col selfie stick. Anche lei ha capo totalmente scoperto, senza bisogno di scorta, niente, da sola, in jeans. E lei gira per la città e fa interviste a locali, a uomini e sono tutti felici, tutti felici di parlare con lei. Nessuno la critica per il suo abbigliamento. Le stesse donne siriane nei luoghi controllati da Assad sono libere di vestirsi come vogliono. Come da noi, insomma, con le stesse restrizioni, non è che girano nude, però. Ecco, questo io l'ho visto per quanto riguarda la Siria, ma credo sia un ragionamento applicabile anche a tanti altri paesi. Quando vi vengono presentate foto di folle, andate a cercare le donne, contatele quante sono, e vedete come sono vestite. Tutto qua. Questo è il trucco che volevo insegnarvi oggi, perché è molto interessante, secondo me, quando... è di risultato assurdo, direi, quando viene presentata una rivoluzione come democratica, filo occidentale, eccetera, e fai il confronto tra come era prima e come era dopo, e vedi che a seguito di questa rivoluzione le donne non possono più vestirsi come vogliono. Ci piace questo? No, lo so. Spero vi piaccia il cielo dietro di me, finalmente un po' di azzurro, e vi saluto e vi auguro una buona domenica. Ciao a tutti.